Ma questa giornata organizzata dalla Fondazione MAC è molto importante per quanto riguarda la gestione dell'acqua ad uso irriguo. Di fronte a quanto è successo nel corso del 2022 e anche all'inizio di quest'anno difficile, dove c'è stata poca acqua, dove abbiamo dovuto ottimizzare. Quindi il primo messaggio che ho portato e che anche i relatori sicuramente si impegneranno a trasmettere è quello del risparmio. Perché il risparmio oggi è importante. Noi in occasione della giornata mondiale dell'acqua lo abbiamo lanciato, l'abbiamo cercato di trasmettere anche alle scuole. Io acqua ho un futuro da difendere e credo che attraverso delle azioni quotidiane tutti possiamo dare un contributo. La giornata di oggi serve soprattutto ai tecnici, ai presidenti dei consorzi irrigui, proprio per capire che attraverso un lavoro importante che la Fondazione MAC da anni garantisce, oggi si può ulteriormente migliorare attraverso dei sensori che ti dicono quando serve acqua alle piante. E quindi andando in questa direzione credo che il Trentino ancora una volta come provincia autonoma dimostri di essere all'avanguardia, di essere attento su problematiche sempre più importanti dove l'acqua è un bene a livello mondiale del quale dobbiamo essere tutti, tenerne tutti conto.